Ciao, Isis, sulle pala, a lingere, il mondo del mondo, l'indici. Allora, è una domanda di cui è il mio amico, è una domanda di cui è l'opera della trattura. Ad esempio, abbiamo voluto iniziare là, quello che abbiamo fatto definire il nostro, è il nostro amico, è il suo amico, è il suo amico, e ci hanno iniziato a fare un certo senso di caso. La mamma è un po' appassante, ma non ne avevo fare tutt'altro corpo. Allora, il suo salato è il risultato di settimane, come dice, camminetto d'oro, auguro la mamma che è arrivato sull'alimentazione. Nel senso che poi tu facessi il Parlamento della provincia, questi due anni che tenete iniziere, e c'è sempre stato nel tuo cuore il ristorante, che è un bel pozo, perché non è un nuovo rispetto ad oggi, quando i nostri ragazzi, questi due anni che hanno studiato, assolutamente, avevano cercato un modo di scappare conoscendo le possibilità. Eh, la vita di Sia Regni, di Sia Regni, di Sia Regni, di Sia Regni e di Sia Regni, e non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta. Sei rimasto sempre dentro? Sì. Anche in quel periodo che ero in Italia 80... Era esatto. Ho iniziato a lavorare, con i miei e tutti, nel 1980. Quei ero in Italia 80. Quei ero in Italia 80. E hanno questo momento? Che non è l'unico, ma io non mi stai tornando. Cioè, io non so che mi pare un rumore, ma io... Allora, come sono ancora? Sperando a studiare chimico, io sono... Se fosse un mese, 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 un mese. E allora, a chi so cosa succede in vita? E che per forse fatto c'è? Si è stato in cucina e hai cucinato con un chef o hai coordinato una sala? Guarda, per esempio, dopo essere arrivata in cucina, mi sono trovato in sala di salata per la cucina e il nostro ristorante per l'odore era molto strutturato. In conoscopolo, pochissima età, una cucina della vita dove si stava una persona, in certe mani. Ovviamente c'è, se ci ho fatto ricordare, l'arrivino del ritorno e sono fatto in sala, sono venuto in dare un lavoro, perché io l'ho sempre visto il suo, un bilotato masserato per la gente. Senti, ma anche l'idecismo mi provava di accedere a discutere di differenze, di come si possono fare i colori, di come si possono andare a Modena. Io per esempio, l'esempio di sera, ho chiesto dei portogli di sera, possibili fatti con la crema di parmigiano, mi hanno mandato un assaggio su un anziano. Allora, c'è il primo che arriva un'altra cosa, è che mi torte di parmi con le numeri, questo è sempre come la mamma della meranzana, la mamma della 96. Di come i miei, di certo, poi a voi, 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 a voi. Faccionare, sanno bene. Ecco, inizialmente il polone è sempre sempre sempre, se fosse molto difficile, se fosse così, non si può essere. e 5 e 7 ho tenuto un bello un libro ricordo domenica queste cose scusami mi ricordo la patigiana che mi sono fatto con la fede che si fa scanalizzare le città ma scusami il cartellino un altro mondo ti dice ma i volumi c'è qualcosa che non è il cartellino c'è qualcosa che non è il cartellino questo si compra un po' con l'inferenzione con l'inferenzione si cerca sempre di impianti ma per assoluto quello che è interessante storicamente è una città questa è stata portata a quella minuzione c'è una storia che si fa che è stata la sedia qui abbiamo il città il suo sistema è successo perché già sono scelte studiare sono scelte gli spagnoli eccetera e portavano a corso questo loro portare per certi versi ha forzato una cosa che dice e veramente ha detto un po' chiamatelo un nemico credo siete andati a una misura di pasta che si è stato un po' si è stato un po' 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 però c'è anche una maturazione che mi ha cioè non siete proprio a un po' poco quello che facevano mi ha nomi chiamato i carini il lavadugno il lavadugno il lavadugno il lavadugno è una macchina cosa che mi sa più grande che si ma questo è il futuro che mi sa di un'altra che veniva da un lato da un lato da un lato che mi sa ci fa da un lato che si sentite quando si è diceva uno che vuole fare il radio si 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 si